Infine, per quanto riguarda le alleanze, il Partito Democratico sarebbe disponibile in una grande alleanza contro le destre se si dovesse arrivare a un risultato elettorale di quel tipo? E la seconda domanda, se ci fosse la necessità di un altro governo di salute e di salvezza nazionale, il Partito Democratico ci sarebbe? Guardi, il risultato elettorale questa volta sarà diverso da quello del 2018. Il risultato del 2018 lasciò molti margini, non c'era nessuno che aveva la maggioranza assoluta. Questa volta sarà diverso perché quella legge elettorale viene applicata a un Parlamento in cui sono ridotti i numeri per la riduzione del numero dei parlamentari. Questo vuol dire che una delle due parti vincerà, o vince il centro-destra o vince il centro-sinistra, ma vincerà nel senso che i numeri che prende si trasformeranno in maggioranza assoluta di seggi. In questo senso la discussione sull'alleanza in questo momento secondo me ha poco senso perché comunque una delle due parti vince e quella parte che vincerà avrà la maggioranza assoluta per via del funzionamento dei collegioni nominali.